La protesta si è radunata di fronte al Parlamento danese, il primo Parlamento europeo a revocare il permesso di soggiorno ai cittadini siriani con il pretesto che la Siria sia nuovamente sicura. Il provvedimento colpisce in modo particolare le donne. Faesa studia per diventare infermiera. La mia famiglia è qui in Danimarca e se torno in Siria non ci sono leggi che possano proteggermi come qui in Danimarca. Mio padre è ricercato. Sarò ovviamente arrestata al mio ritorno, all'aeroporto. Sarò minacciata. Mio padre è costretto a tornare in Siria e a sua volta arrestato. Non avendo relazioni diplomatiche con la Siria, la Danimarca non può rimpatriare i suoi cittadini che finiscono in questi centri di accoglienza poco accoglienti a dirla tutta. Non è il nostro obiettivo che debbano vivere in questi centri per lungo tempo. Il nostro obiettivo è che rimpatrino e che possano essere una risorsa anche per il loro paese d'origine, grazie a quello che hanno ricevuto in Danimarca. Quando abbiamo accolto i profughi siriani sapevamo che sarebbe stata una soluzione temporanea, fino a quando la Siria non sarebbe tornata sicura. Ma è di nuovo sicura la Siria? Il provvedimento è stato varato solo dal Parlamento danese, mentre in Siria si continua a combattere.